BDF Forum, la prima esperienza con questo nome, ma non la prima esperienza seminariale per voi di BDF. Che messaggio avete inteso lanciare al mercato con questo forum così impegnativo, così grosso? Di solito noi organizziamo ogni anno dei meeting con delle aziende singole e quest'anno ho voluto cambiare un pochino il trend per accorpare quelle 5-6 aziende più di livello che noi commercializziamo per far conoscere sia le novità, sia dal punto di vista tecnico che normativo, ai nostri clienti. Direi che oggi la risposta è stata straordinaria perché c'era tanto pubblico. Significa anche che il mercato sta andando bene? Sì, diciamo che nel momento storico italiano un leggero aumento di fatturato c'è in percentuale. È chiaro che bisogna andare sempre secondo la missione e la politica dei BDF su prodotti innovativi e più performanti e non cadere nelle solite storie dei prezzi più bassi, chi ha il prezzo più basso. Questa è una cosa che noi non facciamo e non vogliamo fare. E questo fa parte anche delle vostre politiche a valore, tra cui si inserisce naturalmente anche la creazione di movimenti formativi come questo. Quali altri tipi di servizi fornite come valore aggiunto ai vostri clienti? Noi diciamo che rispetto a qualche concorrente, perché non credo che siamo gli unici, noi diamo un servizio sia in fase di sopra luogo, quindi progettazione, preventivazione e poi anche con l'auto. Quindi noi diamo un servizio con i nostri tecnici interni che sono i nostri dipendenti e abbiamo vari settori, chi si occupa di sicurezza, quindi di antifurti, chi si occupa di IP e quindi TVCC abbinato alla videosorveglianza e di domotica. Ognuno ha il suo compito per dare il supporto agli installatori.